È con grandissimo piacere che abbiamo sottoscritto oggi questa convenzione con l'Istituto di Credito Sportivo confidando e auspicando che questa relazione tra l'Associazione di Molestare d'Italiane e l'Istituto di Credito Sportivo possa portare reali e concreti benefici al patrimonio culturale italiano e in particolare a quello disseminato nel territorio che potrebbe essere elemento fondamentale per la ripartenza delle aree interne del Paese.